buongiorno ragazzi oggi mi trovo addosso del liro piccolo paesino in provincia di como e sono all'inizio del sentiero per il bivacco zeb bivacco zeb sono mille mille metri di slivello non tantissimi però neanche pochetti e dovrebbe esserci poca neve quindi abbastanza abbastanza easy come cosa ha dimenticavo perché sono con un carissimo collega marco e se invece troviamo neve potrebbe essere un pochino più complessa perché l'ultima parte tira di maledetto dai ci mettiamo in marcia facciamo un pranzetto veloce e via grazie a tutti alle mie spalle la valle stretta che ci conduce al bivacco zeb tutto questo diciamo falso piano che è molto falso perché non è molto piano in fondo in fondo sulla sinistra c'è la parte di salita abbastanza abbastanza tosta che vi dicevo all'inizio grazie a tutti comunque oggi fa veramente caldo siamo a febbraio e sono in maglietta a salire impressionante impressionante veramente ci siamo appena lasciati alle spalle il tratto quello di falso molto falso piano e ora ci prende la salita quella strong come potete vedere abbiamo anche appena incontrato altri quattro escursionisti che ci hanno dato una brutta notizia abbastanza brutta ovvero che mi sa che il bivacco è pieno c'è su un casino di gente bisogna sperare che forse alcuni non si fermano e tornano a perché le ha detto che avevano degli zaini piccoli quindi voglio sperare in quello questa parte qua è tostissima ci mi sta facendo sputare sangue un po' anche perché i miei scarponi non sono super adatti è che non sapevo quanta quanta neve avrei trovato e non potevo rischiare di prendere le scarpe da trail e dopo trovarmi magari in mega nevaio difficile molto improbabile però non potevo rischiare siamo praticamente arrivati al bivacco dallo zeb è stata tosta l'ultima sentita niente tosta ci siamo anche già fermati a rifornirci di acqua quindi siamo reddi per cambiarci e comunque la temperatura è scesa di brutto praticamente da 18 gradi siamo passati sotto i tre quasi due mi sono già super cambiato e coperto benissimo perché essendoci fermati a pigliare l'acqua tutti sudati aveva iniziato a congelare di freddo veramente tanto 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 quindi ora mi dedico magari a far girare un pochino così quindi mi sa che ci vedremo dopo per la buonanotte ciao 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 eccoci tutti in preparazione della cena perché dopo tutte le calorie bruciate bisogna anche rai metterle marco cosa prepari grande mi hai copiato gli altri ragazzi invece fanno roba di classe salsiccia tanta roba sono direi pronti da mangiare ci volevano tante calorie ed ecco che ho fatto una cena super abbondante le mie mille calorie grazie ai noodles ed ora è il momento di fare di fare la nanna dopo una cena decisamente abbondante lavo i dentini e mi infilo dentro il sacco sperando che riesca a dormire ci sia troppo casino e anche sperando di non avere troppo caldo perché comunque la temperatura è arrivata a 20 gradi continuando a cucinare come se non ci fosse un domani abbiamo tirato dentro praticamente 20 gradi dentro fuori ci sono meno 3 meno 4 dentro 20 quasi 25 gradi di sbalzo non è pochetto non è pochetto vabbè dai a domani buonanotte buongiorno ragazzi ho dormito così così oggi perché ha fatto un caldo assurdo l'effetto stalla si è fatto sentire in 8 da dentro abbiamo scaldato sia stati delle ottime stufette vabbè abbiamo anche già fatto colazione stiamo finendo di rimpacchettare gli zaini e speriamo di riuscire a vedere un pochino l'alba anche se si sta annuvolando come da previsioni vediamo se siamo fortunati o no per la prima volta Ci siamo appena iniziati a incamminare e abbiamo abbandonato il bellissimo bivacco e abbiamo salutato anche i ragazzi. Ci attende un bel po' di discesa e tanto tanto vento perché c'è tanto vento ed è gelido, infatti in dieci minuti si è completamente coperto il cielo. L'obiettivo è riuscire a rientrare in due rette, due rette e mezza perché poi è prevista anche un po' di neve barra acqua, anzi non un po' parecchia e meglio evitare di prenderla. Ci siamo lasciati alle spalle tutta la parte di discesa, la parte più ripida. E ora stiamo sulla parte di falso, molto falso piano e c'è tanto tanto vento e il leggerissimo nevischio. Però va bene dai, finché fa così, finché il tempo tiene tanta roba. Abbiamo da poco passato l'ex caserma della guardia di finanza e siamo ora sulla mulattire che ci porta all'auto, quindi non dovrebbe mancare tantissimo. Ormai siamo arrivati al parcheggio, quindi l'escursione è finita. Solito recap finale, gran bella escursione. Ieri faceva super caldo, oggi invece fa super freddo. Però ci sta, ci sta, gran bella escursione, gran bella escursione. Che dire, alla prossima, ciao! Ciao!